Grazie a tutti. Parliamo di Malta e delle opportunità che può garantire anche ad una clientela istituzionale che è stato poi il tema guida di questa prima tavola rotonda. Grazie Malta. Malta è un mercato di frontiera, piccolo sì ma con tante opportunità. Bisognerebbe considerare questa opportunità nel contesto dell'andamento economico, dell'isola, della crescita del PIL anno dopo anno, oltre il 6% con anche previsioni di ulteriore crescita nei prossimi anni dove ovviamente tutte le società che partecipano nell'andamento economico stanno usufruendo di questa crescita. E per tal motivo credo fermamente che per investitori istituzionali, internazionali, puntare anche su Malta con una piccola quota nel loro portafoglio per una diversificazione, avere un investimento anche su titoli maltesi secondo me conviene. Infatti la diversificazione è stato poi un tema guida quindi proprio perché no? Anzi, perché sì scegliere Malta? Cioè cosa la rende una giurisdizione più appetibile rispetto ad altre realtà? Malta si è posizionata in modo di proporre a gestori internazionali di stabilirsi sull'isola sia per strutturazione di fondi e anche attività gestionali con più facilità e con costi sicuramente molto concorrenziali rispetto ad altre giurisdizioni. Malta ha permesso a vari operatori da settore medio piccolo ma anche a gestori ancora più grandi di avviare attività sul territorio che ha creato un'industria che oggigiorno ha tirato verso l'isola anche altri operatori da società di amministrazione fondi, società di gestione e anche banche che offrono servizi di castiglio sull'isola. Perciò oggigiorno c'è un ecosistema sull'isola che grazie a una politica molto pro business adottata da regolatori maltese siamo riusciti a portare su Malta vari operatori internazionali che usufruiscono dei vantaggi che l'isola dispone. C'è tanto l'ecosistema che forse anche in Italia dovremmo imparare a avere e a creare ulteriormente. Grazie mille a Giuseppe Camilleri per essere stato qui con noi. Per me adesso è tutto. Cedo la linea allo studio.